Diana Lowe, duo musicale conosciuto al grande pubblico, grazie al talent di Sky. Pensate che è passato da X-Factor, questo bellissimo talent, il duo musicale in questione, a Piazza del Popolo, piano centro di Roma capitale. I Diana Lowe, quindi, si possono considerare come dei personaggi davvero in gamba dal punto di vista musicale. E può capitare, infatti, di trovarli proprio a Piazza del Popolo, intenti a suonare in mezzi ai passanti come dei veri e propri artisti di strada. Termine che è stato, da loro stesso, rivendicato più e più volte. In questi giorni è accaduto che è stato possibile, infatti, ripeto, incontrarli a Piazza del Popolo, tra alcuni fan, molti curiosi, passanti che, in qualche maniera, hanno voluto anche scattare delle foto, quelle dei selfie, in loro compagnia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, complimenti a Diana Lowe e al prossimo video da parte mia.